Salve a tutti ragazzi sono sempre io e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale siamo ritornati qui con la carriera allenatore con il Newcastle puntuali di giovedì sera alle 18.30 come al solito vi ricordo che martedì è uscito il secondo episodio della carriera giocatore per chi la volesse vedere mi raccomando ve lo lascio qui a schermo e comunque il link in descrizione andate anche sul canale perché comunque lo trovate vi ricordo ragazzi che se volete restare informati su tutte le nuove serie che arriveranno su FIFA e anche tanto altro vi consiglio di seguirmi sui social network Facebook e Instagram in descrizione ma ho creato anche il canale Telegram ragazzi così potete seguirmi anche sull'applicazione per il telefono Telegram cercatemi nella ricerca chiocciola menzo con la M maiuscola con la Z tutto attaccato comunque lo scriverò qui davanti così sarà più facile ho scelto un nome un po' così difficile da dire menzo con la Z però sì ho scelto quello mi raccomando seguitemi nel canale Telegram ma allora ragazzi andiamo avvantissimo perché oggi faremo Sunderland Capital One Cup contro il Manchester City Stoke City sempre in campionato e poi mi sa che arriverà anche il Bournemouth o il Bournemouth come volete abbiamo visto tutti ragazzi lo spettacolo del Leicester City che ha vinto la Premier League chi lo sa forse una tra West Ham, Newcastle e Norwich Norwich potrà essere la cenerentola di quest'anno chi lo sa eccolo qua ragazzi la classifica della Serie A purtroppo l'Inter è settima ha sei punti dalla terza, dalla quarta e dalla seconda mentre sono otto i punti dal Milan prima in classifica purtroppo non sta andando bene non è ancora perso una in realtà tre vinte e sei pareggiate non è ovviamente la nostra Inter perché la nostra Inter farebbe follie veramente tanto lo scontento Mkhitaryan seguito da diversi club lo potremmo seguire anche noi in realtà Mkhitaryan perché se sei scontento se ne potrebbe andare a poco prezzo comunque ragazzi io direi di andarti a giocare questa partita contro il Sunderland purtroppo veniamo da un ottimo episodio ma anche da un infortunio di Wijnaldum molto ma molto difficile da superare sinceramente e poi veniamo da una situazione in attacco abbastanza complicata per quanto riguarda Mitrovic avrà le sue possibilità in molti mi avete detto di far giocare Dumbia io darò proprio in questa partita occasione di giocare a Dumbia ok ragazzi possiamo andare con questa formazione qui 4-4-2 centrocampo a rombo con 6 v davanti alla difesa gioca la Shell titolare al posto di Mbemba Arons a sinistra Townsend a destra Meyer Dumbia e Gamero ci siamo tutto pronto per Sunderland Newcastle allo Stadium of Light ragazzi mamma mia io sono quasi venuto per aver detto questa cosa sinceramente scusate però sono abbastanza carico siamo la miglior difesa per il momento 4 gol subiti cerchiamo di mantenere questo primato sempre sul pezzo ragazzi e forza Newcastle attenzione a Mvillac che recupera il pallone per Ndoje che sbaglia tutto qua Ndoje ha sbagliato veramente tutto qua era davanti a Krul praticamente attenzione a Kasri Kasri in avanti la Shell chiude tutto ed esce Krul no Krul tienimila Wendel l'ha vista la partenza di Rolando Arons può andare Arons non ci arriva in scivolato il difensore Arons la mette in mezzo dove c'è Dumbia Mannone anticipa Sido Dumbia ancora Jones ancora Rodwell attenzione perché se ne va bene Rodwell la Shell Krul para attenzione a Dumbia che recupera di nuovo il pallone prova a far lanciare Gamero Gamero attenzione di fisico Gamero su Jones anche Gamero può andare Gamero riesce a prendere il pallone Gamero niente ancora qui il pallone però con Arons che lotta finisce qui il primo tempo ragazzi 0-0 partita brutta stiamo giocando male attenzione a Rodwell parla per Ndoye il tiro di Ndoye stavolta il Sunderland passa in vantaggio 1-0 stiamo giocando veramente male veramente molto ma molto male va il gol di Ndoye ma stiamo meritando questo svantaggio attenzione perché ma non è fuori Townsend re palo palo traverso di Gamero purtroppo avevo spinto L1 ragazzi avevo spinto L1 per sbaglio e mi ha fatto il pallonetto eh l'ho sbagliato io qui ma cosa aveva fatto Jan Mat cosa aveva fatto Jan Mat incredibile ragazzi ora Townsend non me lo ricordo più ma aveva fatto una roba incredibile attenzione a Prat sta appena entrato è fresco anche Perez sta appena entrato bella palla di Perez per Gamero ma non esce sempre benissimo mancano 9 minuti alla fine della partita io non so che parita sto giocando perché non mi sembra di aver giocato così tanto sinceramente qua Saive non sa che cosa sta succedendo il Sunderland attacca la mette in mezzo incredibile incredibile Tifo si mangia il 2-0 ma finisce così finisce 1-0 per il Sunderland io sono rimasto a guardare quest'oggi sono rimasto a guardare ho avuto poche occasioni malissimo 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 ti resterò con il 4-2-3-1 perché non mi trovo con le altre formazioni sinceramente adesso ci vuole la scossa sinceramente contro il Manchester City nella Capitolo 1 Cup se vogliamo provare ad andare avanti in Capitolo 1 Cup ci vuole la scossa perché questa parola è stata è stata orrenda perfetto guardate che allenamenti incredibili a parte Miasga che è stato un fallimento sale Perez al 75 Aaron sa al 73 e Vendela al 79 incredibile bellissimo questi allenamenti finalmente ecco ragazzi il gioco mi fa notare una cosa Gamayro a secco di gol parliamo un attimo di Gamayro perché è a secco di gol da 3-4 partite se non sbaglio però attenzione perché appare che ha segnato contro l'Arsenal in una partita incredibile quello che riesce a fare Gamayro in quel ruolo in cui lo sto mettendo io è quello di tenere palla e riuscire a smistarla per i centrocampisti che si inseriscono infatti se ci pensate segna moltissimo l'esterno sinistro il C.O.C. e l'esterno destro perché appunto Gamayro e poi alla fine Gamayro gli fa gli assist quindi alla fine io faccio arretrare un po' Gamayro per poi farli incuneare più o meno è così quello che vorrei fare ci sto riuscendo perché chi ha segnato per il momento è un paio di gol Gamayro e tutti gli altri sono centrocampisti quindi in realtà quello che vorrei fare sta riuscendo comunque seconda sconfitta in campionato oggi andiamo a giocarci questa partita contro il Manchester City i quarti di Capital One Cup faccio giocare comunque un po' i panchinari se vogliamo dire così siamo pronti per andare a giocare questa partita contro il Manchester City con una formazione inedita 4-2-3-1 sempre adesso fisso se vede il titolare Pratt Nuri e Correa che voglio provare a farlo andare sulla destra ma comunque si merita la titolarità ecco perché comunque anche nello scorso episodio ci ha fatto vincere un ottimo match contro il Manchester City proprio se non sbaglio quindi eccoci qua all'Etihad Stadium per un'altra sfida contro il Manchester City questa volta di Capital One Cup sempre sul pezzo e forza Newcastle cerchiamo di fare molto meglio della partita precedente contro il Sunderland Nuri fa andare Pratt ancora Pratt c'è in mezzo Perez riesce a prendere la Perez Perez caballero questo Perez qui mi sta stupendo sempre di più sinceramente tiote recupera un gran pallone c'è in mezzo Nuri poi Perez Perez 1-0 0-1 aio Perez e si dimostra veramente molto cinico comunque ma qui grande recupero di Tiotè e poi bella palla di Nuri molto bene passiamo in vantaggio Tiotè qui recupera una palla persa in modo banale da Sagnà poi Nuri di prima per Perez aio Perez secondo gol per lui in Capital One Cup attenzione a Sagnà la mette in mezzo ad Arabioio l'ex di turno attenzione perché qui Wendel fa un pasticcio questo non è fallo scusate non è fallo su Miasga cos'è ponte almeno minchia è morto Miasga non so neanche se si alza più si ok debolente alla bandierina no infatti si è fortunato Miasga fa andare Nuri fa andare Nuri Nuri fa andare Perez Perez si gira arriva Tiotè da dietro Sterling che chiusura qui aveva fatto tutto bene di nuovo Perez sarà calcio d'angolo del Newcastle che sta schiacciando letteralmente il Manchester City ancora Prat dalla bandierina arriva Miasga Demicelli schiude non so se Miasga ce la farà ancora Prat ancora Miasga che colpisce la palla resta lì Sagnà Caballero è volato Caballero è volato non so dove si è andato Miasga grande chiusura attenzione può andare ancora Nuri bella palla per Perez stai attento con quel fuorigioco mannaggia te mannaggia finisce qui il primo tempo probabilmente dovrò cambiare Miasga perché si tocca la caviglia se non sbaglio Aghero per Selina la mette in mezzo per De Bruyne De Bruyne tiro Krull De Bruyne era passato davanti a Mbemba ragazzi Mbemba non puoi farti superare così porca puttana Shelby può andare Shelby oh Gesù santo Shelby c'è Perez no 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 oh Perez porca puttana scusate ragazzi non sapevo cosa dire non me l'aspettavo questa scena qua sinceramente attenzione da Aghero prova ad andare in mezzo con Aghero lo chiude bene Castagne poi Clishy c'è Shelby ce ne va Clishy ancora Clishy in mezzo c'è Aghero Krull ci salva il Kull poi Fernandinho ancora stiamo difendendo malissimo poi qui in Bemba mette ordine Correa possiamo ripartire con Nuri e Perez e adesso va Perez si ne va benissimo Perez c'è mezzo Nuri il tiro di Nuri Caballero attenzione perché il Manchester City è tutto su non facciamoli colpire di testa perché sono pericolosi De Bruyne la rimette in mezzo Krull Krull sicuro Krull Correa ruba palla a company Correa il tiro a giro di Correa Caballero arriva Perez poi ancora Clishy la palla però ce l'abbiamo noi con Gerson Martins oddio che stop ha fatto Martins qua 3 minuti di recupero raga no ad Arabioio ad Arabioio che cos'era ha fatto che cos'era ha fatto ad Arabioio alla fine ragazzi è sua questa partita è sua perché è sua dai cioè a Gero se ne stava andando se se ne andava a Gero qui era pareggio sicuro che vittoria ragazzi 1-0 andiamo avanti noi grande prestazione di Perez Krull ancora una volta il migliore ottimo tutti sopra la sufficienza se non sbaglio assolutamente per forza sì Wendel un po' meno di tutti ma solo perché ha toccato meno palle in realtà detto così potrebbe essere potrebbe suonare strano dico la verità giocatore infortunato Miyazga ha subito un infortune sarà indisponibile per 3 settimane distorsione alla caviglia ragazzi ho visto una notizia incredibile ad arabioio fischiato dai suoi ex tifosi dalla squadra è un ragazzino di 17 anni ed è stato fischiato incredibile purtroppo con la sconfitta contro il Sunderland siamo usciti proprio anche dalla zona Europa in realtà anche se siamo a 3 punti dal Chelsea quindi su con la vita diciamo così e abbiamo ancora possibilità di fare bene in realtà ok ragazzi andiamo a giocare su questa partita contro lo Stoke City siamo al San James Park ragazzi cerchiamo di non fallire nel nostro stadio sempre sul pezzo e forza Newcastle insieme a Bojan Kerkic il tiro dopo un minuto e mezzo subito occasione per lo Stoke cerchiamo di stare concentrati Camero bella palla per Perez puntare Perez c'è di la Prat il tiro a giro di Prat given che parata qui bellissima parata bellissima azione avete visto Camero è riuscito a far infilare Perez alle sue spalle l'ha servito benissimo e poi ha partita l'azione d'attacco Camero steccatissimo Camero qui mamma mia che brutto fallo questo è rosso per me è rosso perché poi a parte che è entrato in area giallo giallo per imbula ma Camero di quanto poco è uscita credo fosse entrata non è vero guardate Shelby qua che cosa ha chiuso Bamba Shelby gli ha praticamente sbattuto il pallone adosso e ha fatto un passaggio perfetto per Bojan credo 6V fa andare Kevin Gamero 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 Kevin Gamero 1-0 Newcastle eccola eccolo il gol di Kevin Gamero è forte ragazzi Kevin è forte qui gran recupero di 6V qui per un attimo non ci ho creduto poi l'ha recuperata di Mancino addirittura Kevin Gamero 1-0 eccolo il gol Gamero non molla mai un centimetro mai Gamero può far andare Perez 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 davanti a Given è stanchissimo Perez è stanchissimo Perez non ce la fa più non ce la fa più attenzione perché lo stocca è tutto avanti pareggio di Affellai no è fuori gioco è fuori gioco è fuori gioco è fuori gioco incredibile ma questo buco non mi è piaciuto questo buco non mi è piaciuto per niente attenzione 3 minuti di recupero Bamba grande chiusura poi Arons Arons riesce a ripartire può andare Rolando Arons adesso può andare Arons è da solo è il più veloce è il più fresco di tutti può andare ancora Rolandino è da solo è da solo la teniamo qui la teniamo qua ancora Arons se ne va Arons attenzione attenzione perché si è andato Rolando spinto Gamero e finisce qua e finisce qua 1-0 la San James Park torniamo a vincere nel nostro stadio 3 punti importantissimi ragazzi 3 punti sempre di cuore sale anche Dennis Pratt al 78 ma si avvicina molto anche ad Arabioio e anche Angel Correa al 79 non ho visto la classifica eccola qua ragazzi cosa vi avevo detto era una vittoria importantissima quella 24 punti il Chelsea 23 il Manchester United e 21 noi siamo a 3 punti di differenza dal Chelsea al Vitality Stadium Bournemouth Newcastle cerchiamo di tenere questo ritmo positivo nelle partite cerchiamo di avere risultati positivi perché comunque ci fa bene ci fa bene restare lì con le grandi davanti ad altre grandi perché comunque siamo davanti al Manchester City siamo davanti all'Arsenal siamo davanti al Liverpool che non ho visto come è messo adesso in classifica comunque sempre sul pezzo e forza ne ho chiesto Gamero Gamero col destro Gamero Federici che parata si chiude benissimo il Bournemouth si chiude benissimo faccio fatica proprio a entrare nella difesa andiamo a cercare di sfruttare anche i loro errori tipo questi errori di controllo palla di stop attenzione perché Destain entra che scivolata sciagurata di Destain su Perez ma perché l'ha fatto incredibile calcio di rigore netto e ammunizione per Destain ci sta il giallo non so se si stava il rosso sinceramente ma questo è rigore netto ovviamente Perez se ne era andato li vediamo in velocità qui segato completamente non sfiera neanche per sbaglio la palla adesso occasione per Kevin Gamero di portare avanti il Newcastle va Kevin Gamero para quel cazzo di portiere lì peccato 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 e qua punizione clamorosa per il Bormouth batterà Ricci probabilmente dritto in porta no va surnam è cruel sul suo palo però no raga come ha fatto a far gol come ha fatto a far gol a FOB queste cose mi fanno incazzare però sinceramente queste cose mi fanno incazzare c'è la Jan Mutt davanti mi ha fatto colpire no dai ma come c'è andato Jan Mutt 1-0 Bormouth così all'improvviso uno non può veramente star mai tranquillo Correa bel lancio per Perez Perez davanti al portiere non può niente Federici sul tiro di Perez uno pari pareggia Newcastle forza ragazzi grandi grandissimi e adesso andiamo a vincere e adesso andiamo a vincere molto bene qua Correa che rientra Gamero si porta via il difensore poi apre per per Perez che trova un grandissimo buco qui Federici ci mette la mano non è abbastanza ottimo perfetto adesso andiamo a vincere non voglio assolutamente questo pareggio per 1-1 Meyer allarga per Arons c'è mezzo Perez la palla gli arriva fortunatamente Federici che parata ha fatto che parata ha fatto su Perez mamma mia qui siamo stati fortunatissimi c'è arrivata la palla proprio lì se facevamo un gol non potevamo dire assolutamente niente la palla non esce la palla non esce incredibile la palla non esce incredibile trova ancora Wendel Correa la palla è per Adarabioio che la rigioca Correa era bellissima questa azione ma torna in difesa Ada torna in difesa a Fob chiudi Lombemba forti no no Lombemba 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 esci Krull finisce qui ragazzi finisce qui dopo 3 minuti di recupero 1-1 non si è riuscito a fare nient'altro peccato per questo pareggio veramente perché ci stava alla fine ci stava non abbiamo giocato male però il Bormuz era una squadra così d'altronde con un 4-4-1-1 era difficile passare era difficile penetrare in mezzo all'area ci siamo riusciti un paio di volte purtroppo peccato per il rigore ma comunque è andata bene così dai un punto vediamo gli allenamenti sale Meyer ragazzi sale Meyer all'80 sono contentissimo di questo contentissimo veramente 19 anni ed è già un 80 incredibile incredibile sale mi asga al 75 ragazzi al 75 mi asga era 71 se non sbaglio è salito di 4 in metà stagione neanche mamma mia fantastico veramente perfetto ragazzi noi ci salutiamo qui andando a vedere la classifica partiamo dal fondo a caso il Liverpool è ancora ultimo a 8 punti il Bournemouth adesso è penultimo a 9 punti il Crystal Palace invece a 10 punti pari punti con il Southampton e andiamo a vedere chi c'è di clamoroso qua l'Arsenal a 14 punti a 12esima e poi davanti c'è Manchester United a 26 punti Chelsea a 24 punti il West Ham a 23 punti il Newcastle a 22 a pari punti con il Tottenham nel prossimo episodio andremo a vedere Leicester Crystal Palace Liverpool e quarti di finale contro il Charlton di Capital One Cup perfetto signore noi ci vediamo ad un prossimo video questo è andato così così purtroppo peccato per quella sconfitta contro il Sunderland ma ci sta ci sta comunque ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video ci vediamo anzi domenica con la carriera dell'allenatore un saluto da me lasciato un mi piace un commento un consiglio noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti